Il nuova feta supera la Tabalcon che si laura campione d'inverno. I giallobru di Fabri conquistano la sesta vittoria su otto gare giocate in casa, ancora una volta senza prendere gol, superandoli al Miramare fermato sul 2-2 dal San Termete. C'è da dire che la squadra giallobru, rispetto al girone d'andata dello scorso anno, ottiene quasi il doppio dei punti. La cura Fabri si vede, si sente e c'è. Miglior difesa del campionato con soli 5 reti subite. La prima emozione della gara arriva al minuto 21 con Cupi che si accende dalla destra e mette in area di sinistro. Fraboni spreca calciando debolmente con il destro. Farabegoli non riesce a deviare la sfera che si spegne tra le braccia di Bornacci. Più pericoloso il numero 10 del nuova feta al minuto 26. Rimessa laterale di Arapi, Farabegoli in area è bravo a fare da sponda per Fraboni che controlla e con il destro chiama Bornacci all'intervento all'angolino alla sua destra. Il portiere è bravo a deviare e poi a bloccare la palla in due tempi. Il nuova feta cresce con il passare dei minuti anche se sembra pagare Dazio. All'assenza dell'attaccante Stefaniello e Francesco Baldrini oltre che quella di Thomas Radici da oltre due mesi. A 43esimo, cramorosa occasione sprecata dai locali. Amantini in posizione di mezz'ala destra. Allarga destra per l'inserimento in corsa di Cupi che entra in area e dal fondo mette al centro la sua terra. Bornacci anticipa Raffaelli ma ancora Cupi li mette sul secondo pallo dove Arapi manca clamorosamente la deviazione a porta vuota. Due minuti dopo i gialloblu passano con merito in vantaggio a cross di Farabegoli da sinistra. Bornacci forse disturbato da sole manca l'uscita. Cupi in acrobazia inventa una conclusione a volo che Ferri respinge sulla linea. La sfera arriva a Frabuoni la cui conclusione era avvicinata e sporca e viene deviata da Tommaso Raffaelli per il secondo proteggioso salvataggio di Ferri. Un salvataggio vanificato dal destro di Cupi che si infila sull'angolo lontano. Ancora una volta determinante il terzino gogliador del Nuova Fetia che quando mancano attaccanti come in questa giornata ci pensa lui a risolvere con la soluzione più facile ovvero i gol. Nella ripresa la Tabaconca prova ad alzare il proprio bariceto di gioco ma alle occasioni latitano Antonietti ci prova dalla distanza senza inquadrare il bersaglio. Il tecnico ospite squalificato in tribuna con l'aiuto dei supporti sui locali chiama a gran voce il proprio giocatore per dargli utili consigli. Crima natalizio che scorre anche sulle tribune. A 64esimo ci prova allora Cardini su punizione destro che aggira la barriera e che salta i riflessi di Semprini. Bravo a deviare in corner con la punta delle dita. Il Nuova Fetia si difende senza patemi e sferirà doppio al minuto 64 con una punizione di Frabuoni deviata di testa verso lo specchio della porta avversaria da Gabriele Raffelli. Peccato che la sfera termini fuori di un nulla. Si cerca l'azione ai gol di spettacolo. Cupo ispirato acquista il primo biglietto al circo. Numero in acrobazia da spettacolo. Sfera che si spegne al lato ma comunque applausi da parte del pubblico locale. La partita si trascina stancamente fino al 95esimo quando sui sviluppi di una punizione di Pazzalini un tiro a botta sicura viene deviato miracolosamente in corner da fattori che salva così la vittoria. In Nuova Fetia si laura campione d'inverno. Supera l'ultima giornata e giro d'andata proprio in Real Miramare. Adesso dopo un mese di stop il prossimo appuntamento sempre tra le muramiche contro il colonnella battuta l'andata per due reti a zero.